Si è svolta presso il Comune di Piedimonte-Matesi la conferenza stampa di presentazione del Convigno per le aree interne come risorsa strategica per la campania e il mezzogiorno che si terrà a Piedimonte-Matesi il prossimo 17 dicembre. Sarà anche l'occasione per ricordare l'On. Tanti Cappello, politico regionale, a 100 anni dalla nascita e a 10 dalla morte che è stato fondamentale per la crescita di questo territorio. Al Convigno parteciperanno numerosi personaggi politici ed istituzionali poi a margine dei lavori avverrà l'intitolazione della strada adiacente all'ospedale Matesino. Presente alla conferenza stampa il figlio Enzo Cappello, il presidente degli ex consiglieri regionali Carmine Iudice il vice sindaco di Piedimonte Bernarda De Girolamo, l'assessore alla cultura Loredana Cerrone il vice presidente dell'associazione Alto Casertano, Angelo Milo e ovviamente il presidente della stessa associazione Antonio De Pandis che abbiamo sentito a margine dei lavori. Sì, la ringrazio perché effettivamente è così. Noi come associazione socioculturale Alto Casertano riteniamo che sia effettivamente strategico il ruolo che le aree interne debbano avere soprattutto alla luce del PNRR perché devono rappresentare il volano di nuovi processi evolutivi del territorio. Poi abbiamo un territorio, quello dell'Alto Casertano, anche che rappresenta moltissime delle aree interne. Credo che più del 75% del territorio della provincia di Caserta sia rappresentato da aree interne. Sul tema ha molto sentito intervenuta anche la vice sindaco del comune di Piedimonte Bernarda De Girolamo. Grazie. 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 Grazie.